Allora è Natale e voglio essere bravo, anche se domenica sera ho tirato giù tutti i santi del calendario. È Natale e di conseguenza siamo tutti buoni, siamo tra amici soprattutto con Rosi e con Bruno. È un buon proposito, è un buon aspiccio per gli amici giuventini. Cioè voglio dimenticare per un momento che pensino che Agricola sia un gran dottore, voglio dimenticare che Moggi sia un santo da venerare, voglio dimenticare che Lippi a Udine nell'ultima giornata di campionato che aveva visto lo scudetto aveva mal di pancia e ha detto che era cagarella e che Bonucci è più intelligente di Pasquale Bruno e che gli scudetti robati non sono solo due ma nessuno. è che Zeman è il diavolo. Con tutto questo aspetto che lo voglio cancellare, vi voglio augurare, questo veramente, adesso non sto più scherzando, che io vi passo il turno con il Bayern. e poi magari peschi il Barcellona e che magari riesco a andare in finale a Milano e che vado in finale a Milano perché quest'anno la finale è a San Siro e che finalmente dopo 5-6 anni vinca un'italiana e che sia la Roma. Io voglio veramente fare un augurio luminoso al mio caro amico Bruno, spero che il prossimo stadio che visiterà sia quello dello stadio in Maturino che magari come terapia potrebbe essere più utile perché secondo me questo si che fa bene, è un toccasana. Buongiorno con il maestro Lodola perché stiamo preparando, organizzando questa grande festa con Bruno con 70-80 bionde. Un festino, un festino, perché abbiamo bisogno di, con l'anno nuovo, di godere in tutti i sensi. Bruno io per l'anno nuovo andremo al mare, mangiamo e beviamo come degli animali, ce la puoi fare? Viva Bruno 2016, baci a tutti e Bruno ci regala una grande frase durante 2016 che sarà un salmo, siamo l'armata nera azzurra e mai nessuno ci fermerà. Tema, ciclismo. Io sono il super amichetto di Bruno, il ciclista, ciclista maledetto per Bruno. Abbiamo fatto un sacco di chilometri insieme, io mi allenavo e correvo, lui si allenava e mangiava. È una giornata speciale per noi e per Bruno per stare tutti insieme. Un saluto a tutti, buon Natale, buon Natale. Siamo qua con Bruno, là ci sono dei maschioni che guardano con fare un po' strano, Bruno ride, diamo un bacino a Bruno. Dopo la pioggia torna sempre il sole e questo mi sembra giusto anche per Bruno e per tutti i suoi amici, siamo qua. Buon Natale a tutti. Spero ai miei felicitati Iniziare un bel 2016 in amicizia, con affetto. Io spero di invitarti allo stadio di Ancona, che non è importante come San Siro o come quello di Torino. Sperando di festeggiare con te un momento bello della mia professione e insieme a voi. Quindi ci auguriamo tutti un bel 2016. Ti e vi, cioè mi rivolgo a te e a Rosi, vi vogliamo bene. Buon Natale. No, allora, grazie perché siete qui, perché comunque siete sempre vicino a Bruno, non oggi, sempre. E quindi, oh, gli è venuto anche un brivido. E siete anche vicino a me. No, allora, grazie a tutti.